Ragazzi buonasera e ben ritrovati sul canale delle offerte di Amazon Siamo a circa 6 ore e mezzo, poco più, dal termine del Prime Day del secondo dei giorni relativi al Prime Day quindi stanno per scadere molte offerte Abbiamo però selezionato le 5 di oggi nel precedente video abbiamo analizzato le 5 della prima giornata di Prime Day Oggi andiamo ad analizzare quelle che si stanno per concludere con il secondo Prime Day Al primo posto c'è un tablet, quello della Huawei, il Matepad T10 Un tablet classificato nella top 3 delle vendite di Amazon per quanto riguarda l'elettronica Come vedete le recensioni sono addirittura 20.000 con una media del 4.6 su 5 quindi è sicuramente ottimo Lo sconto non è eccezionale però è un 18% risparmiate 20€ Con 100€ vi portate a casa il Matepad T10 che ha comunque delle specifiche veramente ottime è un octa-core, 16GB di RAM, dual speaker quindi insomma potete acquistarlo anche in comoderate da 20€ potrebbe essere un'ottima scelta potete anche scegliere tra diverse configurazioni anche a 32GB o in altri colori Al secondo posto c'è il Kindle che ovviamente non è un tablet ma è relativo solamente specifico per la lettura dei libri Oltretutto il Kindle lo trovate scontato ad oltre il 30% quindi con 50€ vi portate a casa il Kindle con la luce frontale integrata nero ma potete prenderlo anche bianco Ricordatevi che se acquistate Kindle potete iscrivervi a Kindle Unlimited ed ottenere 3 mesi di abbonamento gratuiti quindi vi potete leggere tutti i libri gratuitamente per 3 mesi con Kindle Unlimited che vi ricordo come tutti i servizi di Amazon in abbonamento potete poi annullarli in qualsiasi momento e insomma ve l'ho sfruttato gratis senza dover poi abbonarvi realmente Ok? Al terzo posto c'è quello che tutti definiscono il Roomba poi in realtà ci sono diverse case produttrici questo è l'EcoVax di D-Boot in particolare questo è l'articolo che si chiama Cosmo è un robottino che pulisce casa la particolarità di questo robottino che come vedete costa abbastanza però è scontato di quasi il 40% quindi costerebbe 650€ ve lo ritrovate a 400€ acquistabile in rate anche questo e la particolarità di questo è che è comandabile attraverso Google Home attraverso Alexa o tutte quelle applicazioni di domotica insomma che potete parlare in casa e dire ok accenditi i polisci vai a pulire la camera vai a pulire la cucina e lui ha una navigazione intelligente e vi va a pulire tutta casa io ce l'ho uno ce l'ho della generazione precedente che è un Roomba e veramente sono fenomenali questi attrezzi in più c'è una promozione che se vi abbonate ad Edison ottenete altri 110€ in buoni regali quindi in pratica potete farvi scontare ulteriormente arrivare praticamente a sotto i 300€ al quarto posto c'è un computer un personal computer di quelli top proprio top di gamma questo assoluto l'LG Gram che ha delle specifiche veramente pazzesche abbiamo selezionato quello che ha un processore i5 contrariamente all'i7 perché vabbè l'i7 sarebbe ancora più performante però costa 300€ di più anche quello è a sconto non so se al 29% come questo però è a sconto anche quello con Amazon Prime Day quindi per le ultime 6 ore magari se siete più interessati ad uno ancora più performante andate a comprare l'i7 per noi sembrava importante condividere perlomeno le 5 ecco perché comunque è un ottimo device già così con Windows 10 Home e insomma con tutte le specifiche che fanno di questo uno dei migliori portati in circolazione scontato al 30% insomma qui risparmiate 400€ è roba infine l'ultimo articolo è lo Xiaomi 10T Lite questo non c'è ancora ma potete acquistarlo in esclusiva Prime già scontato grazie al Prime Day di 30€ che quindi sono un 10% buono ovviamente è il nuovo Mi 10 Lite 64GB la quad camera da 64 megapixel Snapdragon, Atlantic Blue e insomma in preordine lo ve lo prendete in esclusiva Prime a 10% di sconto che sono oltre 30€ in versione sia 64 che 128 ai vari colori potete cambiarli e quindi questa può essere un'idea perché poi è in esclusiva Prime per le prossime 6 ore finché non scade il Prime Day poi non è più in esclusiva appena esce Bromanna quindi queste sono le 5 scelte avete le ultime 6 ore vi ricordo guardate qui c'è il conto alla rovescia mancano 6 ore e 34 e poi tutti questi sconti svaniscono quindi se volete risparmiare un bel po' di soldi su tutti questi articoli che abbiamo visto avete tempo fino a mezzanotte poi da domani magari troverete altri sconti che però non faranno parte del Prime io vi ringrazio cliccate la campanellina iscrivetevi al canale restate aggiornati e niente cercate di sfruttare le ultime 6 ore di questo Prime Day e spero che abbiate fatto ottimi 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 acquisti io vi ringrazio vi saluto ciao